Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi abbiamo il piacere di presentarvi un prodotto della Puro ovvero una batteria di emergenza della capacità massima di 2400 mAh che è capace di ricaricare e allungare notevolmente l'autonomia del vostro smartphone ma non solo infatti è un prodotto che si adatta a tantissimi dispositivi elettronici tra cui possiamo menzionare console portatili, navigatore GPS, elettroni multimediali e via dicendo grazie al fatto che all'interno della confezione abbiamo tantissimi tipi di cavi che appunto si adattano al tipo di dispositivo da ricaricare adesso vediamo il contenuto della confezione e quindi vediamo un po' come funziona all'interno della confezione troviamo la batteria da 2400 mAh marchata Puro rivestita in uno strato gommato quindi molto piacevole al tatto soprattutto è molto piccolina, leggera, compatta quindi assolutamente trasportabile e poi abbiamo il sacchetto con all'interno tutti i cavetti che ci possono essere utili ed ha anche un cavo retraibile molto comodo come funziona? allora il funzionamento della batteria è molto semplice vedete abbiamo due porte USB, una standard, una mini USB da quella mini USB con dicitura IN possiamo caricare appunto la batteria da 2400 mAh e infatti sarà la prima cosa che dobbiamo fare una volta carica al massimo possiamo caricare il nostro dispositivo elettronico in questo caso sarà un Galaxy Nexus quindi prendiamo un cavetto micro USB lo colleghiamo al cavo retraibile colleghiamo il cavo USB standard alla batteria accendiamo tramite l'interruttore la batteria in questo modo si attiva la modalità di carica e colleghiamo il tutto proprio al nostro Nexus vedete come il Galaxy Nexus ci notifica che la batteria è già in carica vedete? è stata la batteria in carica la cosa che mi ha saputo questo prodotto è anche la velocità di rigare che è veramente molto molto veloce e soprattutto è un prodotto che a mio avviso è utilissimo a tutti quelli che viaggiano spesso viaggiano spesso magari hanno uno smartphone con piano dati attivo quindi internet attivo tante sincronizzazioni sullo smartphone magari hanno anche un lettore mp3 giocano un po' con la console insomma per chi viaggia questo tipo di prodotto è una manna diciamo anche una vera e propria ancora di salvezza quindi se siete proprio interessati e viaggiate spesso noi vi consigliamo assolutamente questo prodotto che è veramente molto buono e tutto sommato non costa tanto e con questo è tutto prima andiamo quindi al blog AndroidKick.it un saluto da Matteo iscriviti al canale